salve in questo video vi voglio presentare il nostro corso base sui punti maglia sui principali punti maglia di alizia della nostra maestra alizia alizia ormai non ha più bisogno di presentazioni è molto conosciuta nel settore del lavoro a maglia ha scritto sette libri sul chiacchierino ha scritto altri libri a fa lezioni di maglia fa corsi di maglia su facebook la potete trovare su facebook oppure potete trovare le informazioni sul nostro blog dove ci si trova troverete una pagina dedicata ad alizia questo è un corso che alizia ha realizzato per noi per irco stilati in 11 lezioni dove che tratta dei principali punti sul lavoro a maglia si parte dalla lettura degli schemi diritto e rovescio punti allungati punti traforati punti incrociati e trecce punti passati punti ripresi e punti smagliati questo è un corso che va bene sia per chi sta imparando e sia per chi ha già esperienza potrebbe trovare delle informazioni che magari ho dei piccoli trucchi che magari non conosceva il corso è gratuito gratuito ve lo garantisco e ricevere praticamente iscrivendovi dovrete iscriversi qua inserendo l'indirizzo email e il nome e cliccando qui su iscrivermi riceverete una prima email dove dovrete confermare cliccando sull'apposito link confermare di essere voi che vi siete iscritti dopodiché riceverete la prima email con la prima lezione e poi riceverete una lezione a settimana mi raccomando salvate tutti i link salvate tutte le lezioni in una cartella anche sul programma di posta o sul browser però salvateli perché non sarà possibile questo è un sistema automatico non sarà possibile rimandarli il corso è gratuito riceverai ogni tanto delle mail contenenti informazioni sui filati email promozionali sconti anche da che potrai se vorrai utilizzare sul nostro sito web informazioni sul lavoro a maglia e tanto altro tante altre informazioni sul lavoro a maglia non ti verrà mai chiesto soldi noi siamo un'azienda vendiamo filati il nostro interesse vendere i filati ma naturalmente non obblighiamo nessuno a fare niente e abbiamo voluto fare questo corso gratuito per promozionare la nostra azienda qui trovi le informazioni su alcune informazioni su alizia e mi raccomando prima di iscriverti leggi attentamente tutta la pagina tutte le informazioni che ci sono qua e poi una volta iscritto potrai cancellarti in qualsiasi momento naturalmente non finisce tutto con il corso non riceverai 11 email una alla settimana e basta noi poi continueremo a inviare una email alla settimana dove ci saranno altre informazioni lezioni di altre cose magari altri punti magari altri trucchi o schemi o tante altre informazioni sia sul lavoro a maglia sia sui filati se vorrai potrai rimanere iscritto leggere le mail non ti costa niente e se no potrai cancellarti in qualsiasi momento in fondo a ogni email c'è sempre il tasto per cancellarsi può essere iscritto in inglese ansa scrive o in italiano cancellati e ti potrai cancellare dalla newsletter da questa iscrizione in qualsiasi momento ti ringrazio e buon corso grazie mille